io nefi essendo nato da buoni genitori ho dunque ricevuto qualche istruzione in tutto il sapere di mio padre e avendo viste molte afflizioni nel corso dei miei giorni non di meno essendo stato grandemente favorito dal signore durante tutti i miei giorni sì avendo avuto una grande conoscenza della bontà e dei ministeri di dio faccio dunque una storia delle mie azioni nei miei giorni sì faccio una storia nella lingua di mio padre che consiste del sapere dei giudei e del linguaggio degli egiziani e io so che la storia che faccio è vera e la faccio di mia propria mano e la faccio secondo la mia conoscenza poiché ciò avvenne all'inizio del primo anno del regno di sede chiare di giuda avendo mio padre lei vissuto tutti i giorni a gerusalemme e in quel medesimo anno vennero molti profeti profetizzando al popolo che dovevano pentirsi o la grande città di gerusalemme doveva essere distrutta avvenne pertanto che mio padre lei essendo uscito pregò il signore sì proprio con tutto il cuore a favore del suo popolo e avvenne che mentre pregava il signore venne una colonna di fuoco e si posò su di una roccia davanti a lui ed egli vide e udì molte cose e a causa delle cose che vide udì fremette e tremò grandemente e avvenne che il ritornò a casa sua a gerusalemme e si getto sul letto essendo sopraffatto dallo spirito e dalle cose che aveva visto ed essendo così sopraffatto dallo spirito fu rapito in visione sì che vide i cieli aprirsi e credette di vedere dio assiso sul sforzo sul suo trono circondato da un concorso innumerevole di angeli nell'atto di cantare e di lodare il loro dio e avvenne che vide uno scendere dal mezzo del cielo e vide che il suo fulgore era superiore a quello del sole a mezzogiorno e vide pure altri dodici che lo seguivano e il loro splendore superava quello delle stelle del firmamento ed essi scesero e avanzarono sulla faccia della terra e il primo venne stette dinanzi a mio padre e gli dette un libro e lo soltò a leggere e avvenne che mentre leggeva fu riempito dallo spirito del signore ed egli lesse dicendo guai guai a gerusalemme poiché ho veduto le tue abominiazioni sì e molte cose l'esse mio padre riguardo a gerusalemme che essa sarebbe stata distrutta con i suoi pitanti molti sarebbero periti di spada e molti sarebbero stati portati schiavi a barbiona e avvenne che quando mio padre ebbe letto e visto molte cose grandi e meravigliose proruppa in grandi esclamazioni verso il signore quali grandi e meravigliose sono le tue opere signore di ogni potente il tuo trono è alto nei cieli il tuo potere la tua bontà e la tua misericordia sono tutti gli abitanti della terra e poiché tu sei misericordioso non permetterai che coloro che vengono a te periscono e in questo modo si esprimeva mio padre nell'odare il suo dio poiché la sua anima gioiva e tutto il suo cuore era ricolmo motivo delle cose che aveva veduto sì che il signore gli aveva mostrato ed ora io nefi non faccio un racconto completo delle cose che ho scritto poiché egli ha scritto molte cose che vide in visione e in sogni ed ha scritto pure molte cose che profetizzò e disse ai suoi figli delle quali non farò un racconto completo ma farò un racconto delle mie azioni dei miei giorni ecco faccio un riassunto della storia di mio padre sul tavolo è che ho fabbricato con le mie proprie mani pertanto dopo aver riassunto la storia di mio padre farò allora un racconto della mia vita vorrei dunque che sapeste che dopo che il signore ebbe mostrato mio padre lei tante cose meravigliose sì riguardo alla distruzione di gerusalemme ecco che egli si fece avanti tra il popolo e cominciò a profetizzare a proclamare loro le cose che aveva visto e udito e avvenne che i giudei si burlarono di lui a causa delle cose che egli attestava al loro riguardo o che egli attestava in verità la loro malvagità e le loro abominazioni e attestava che le cose che aveva visto e udito e anche le cose che aveva letto nel libro manifestavano chiaramente la venuta di un messia e anche la redenzione del mondo e quando i giudei udirono queste cose si adirarono con lui sì proprio con gli antichi profeti che essi avevano scacciato lapidato e ucciso e cercarono pure di togliergli la vita per liberarsene ma ecco io nefi dimostrerò che la tenera misericordia del signore è su tutti coloro che egli ha scelto a motivo della loro fede per renderli potenti fino anche al potere di liberazione